Questo video è dedicato a Jean-Claude Juncker. Jean-Claude, siamo in una distilleria, distilleria Marzatro, qui siamo a Rovereto, che siamo in un luogo storico dove si producono, insomma, dei distillati di assoluto livello nazionale e internazionale. Ci offriamo una grappa, se ci aiuti a difendere il prodotto italiano. Se l'Unione Europea, invece di continuare a colpire i prodotti italiani, ci aiuta a difendere l'unico elemento che può davvero rafforzarci nel mercato internazionale, mondiale e nel tempo della globalizzazione, la difesa dei nostri prodotti di qualità. Vieni, Jean-Claude, ti portiamo a vedere questo posto stupendo, poi beviamo un bicchiere insieme.